Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica al riposo, nella calura al riparo, nel pianto al conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna, Amen. Ringraziamo il Signore, carissimi, che ci ha parlato, ringraziamo la Trinità che vuole dilagare la nostra vita, la Trinità infinitamente super reale, di fronte alla quale noi siamo nulla di nulla di nulla di nulla di nulla. La Trinità è infinitamente super reale, è finitamente super onnipotente, ha creato tutto, cari fratelli. La Trinità è infinitamente santa e santificante, Dio è deificante, fuoco infiammante, luce illuminante, vita vivificante, è beata e beatificante, contemplativa e ci vuole rendere contemplativi. Ecco, vedete, care sorelle e cari fratelli, anche questa sera il Signore nella prima lettura ci ha parlato di un grande miracolo compiuto da Dio. Avete visto? Questi tre uomini sono stati messi in una fornace di fuoco ardente, ma il Signore onnipotente, la Trinità li ha protetti, la Trinità li ha salvati, li ha fatti uscire indenni da quella fornace ardente dove erano stati gettati e invece appunto sono usciti del tutto indenni. E poi, avete sentito, di fronte a questo grande segno, il re Nabucodonosor che cosa fa? Avete sentito? Dice Benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Vedete, i segni di Dio manifestano il vero Dio, eh? Il vero Dio si manifesta attraverso i segni. Vedete, questi uomini non avevano voluto adorare il falso Dio, il Dio di Nabucodonosor. Avevano appunto proclamato in maniera decisa con la loro vita, eh? La loro totale fede nel vero Dio. E il vero Dio compie un grande miracolo per liberarli. Vedete, cari fratelli? E poi, questo incredulo, vedete come benedice il vero Dio. I miracoli, vedete, la Bibbia è piena di miracoli, cari fratelli, eh? Noi tante volte la Bibbia la leggiamo così, con uno sguardo poco di fede, magari curiosando, chissà che è successo, quello, quell'altro. Dobbiamo renderci conto che la Bibbia è parola di Dio, non per soddisfare la curiosità, ma per portarci alla fede, una fede forte nel Signore. Dio ci vuole infuocare, eh? Di ardente fede. Vedete, questo fuoco? La nostra fede deve essere ardentissima, cari fratelli, ancora più ardente di questo fuoco, in cui sono stati gettati questi uomini, eh? E poi, avete sentito nel Vangelo, lo scontro potente, eh? Potente scontro tra Cristo e coloro che non credevano in Lui. E Gesù qui dice qualche cosa di potente, eh? Che sarà completato, appunto, nei versetti successivi. Gesù dice a questi uomini, voi siete da Satana, ecco perché mi avversate, perché siete da Satana. Cari fratelli, attenzione, eh? Gesù dice qualche cosa di profondo. Quelli che avversano Cristo e la sua Chiesa non sono da Dio, eh? Ma da Satana. Quelli che avversano la verità di Cristo non sono da Dio, ma da Satana. Cioè, sono guidati da Satana. Satana, in certo modo, è il loro padre, cioè li guida, eh? Vedete come dice Gesù? Io faccio quello che ho visto fare dal padre mio, anche voi lo fate, eh? Allora, vedete, vedete, dobbiamo renderci conto di questo, eh? Di questo scontro che c'è nel mondo tra i figli di Dio, tra quelli che si lasciano guidare dalla verità, da Dio. E quando ti lasci guidare da Dio, Dio ti porta a Cristo, perché Dio è uno e Dio si è fatto uomo in Cristo. Quindi, come dice Gesù, chieda la verità, ascolta la mia voce. Se noi ci lasciamo guidare dalla verità, eh? La verità, per eccellenza, è Cristo stesso, eh? Facendoci guidare da questa verità, che è Dio, la verità ci porta a Cristo, la verità ci porta a credere, la verità ci porta ad amare Gesù Cristo, a seguirlo. Questo è il vero Dio, cari fratelli. Attenzione, eh? Chi è che si oppone a Cristo? È inutile che ci nascondiamo con mille... È il demonio che si oppone a Cristo, eh? Quindi sappiatelo bene, eh? È un discernimento profondo questo che dobbiamo fare, eh? Anche per noi, quando non vogliamo seguire Cristo sulla via della croce, non mettiamo tante giustificazioni, diciamocelo dal profondo del cuore. Satana mi vuole portare lontano da Gesù. Quando arrivano, cari fratelli, le difficoltà e dobbiamo salire sulla croce e tante volte, ecco, appunto, resistiamo al Signore, eh? Quello non è Dio, eh? Quando, appunto, noi non seguiamo il Signore, quando ci opponiamo al Signore, ricordiamocelo che quello non è Dio che ci fa fare quello. Dio ci porta a seguire Cristo sulla via della croce, eh? Quindi, attenzione bene, attenzione bene, scacciamo Satana dalla nostra vita. Attenzione bene, scacciamo Satana dalla nostra vita. Quando, appunto, vediamo che, appunto, siamo portati lontani da Cristo, lontano dalla croce, eccetera, eccetera, scacciamo Satana dalla nostra vita. Perché il demonio c'è e opera. E quando qualcuno dice, eh, ma, appunto, Satana non c'è, non ci credo che c'è Satana, e anche quello non è da Dio, eh? Non è da Dio quello, perché il vero Dio ci insegna che Satana esiste, Satana esiste. Eh, ma io non... Eh, scusa, ma la fede non è vedere, eh? Dio non mica ci ha chiamato a vedere, eh? Non è che Dio ha detto, se non mi vedi, allora non fa niente, non ti preoccupare. Il Signore ci ha detto che non lo vediamo, ma lo dobbiamo credere. E la parola di Dio non ci dice che il demonio è una creatura mitologica, ma ci dice che è una realtà, cari fratelli, e lo dobbiamo combattere. Il demonio ci spinge, ci spinge ad combattere Cristo, eh? Svegliamoci. E, d'altra parte, ci dobbiamo rendere conto anche di chi muove gli altri, eh? Quando sentiamo delle persone che ci attaccano perché veniamo in chiesa, eh, queste persone non sono mosse da Dio, cari fratelli, non sono mosse da Dio. Ecco il diavolo, il diavolo, e vedete come il demonio è scatenato, perché, vedete, cari fratelli, come lavora Satana, anche attraverso le altre religioni. Attenzione, eh? Non vi illudete. Le religioni non sono tutte buone. Una è la vera religione, le altre sono un misto di tanti errori. C'è qualche verità, ma ci sono tanti errori. E il demonio come lavora, cari fratelli? Attenzione, eh? Come lavora il diavolo per impedire che il cristianessimo si diffonda, che Cristo sia adorato, eh? Come lavora Satana? Tante cose non si possono, magari, no? Piuttosto, tante cose, diciamo che si devono dire con tanta prudenza, eh? Ma si devono dire tutto quello che si oppone a Cristo non è da Dio, non è da Dio. Tutto quello che si oppone alla Trinità non è da Dio. Anche se li mettono su libri che dicono sacri, eccetera, eccetera. Ma non sono da Dio, eh? Cari fratelli, attenzione, eh? Bene, il Signore ci dia tanta prudenza e luce perché, appunto, siamo sempre dalla parte di Cristo e seguiamo Cristo guidati dallo Spirito Santo, eh? La via, vedete, il Vangelo di oggi ci parla di Gesù avversato. Tutta la vita di Cristo è croce. Anche qui, Gesù era avversato, era spiritualmente in croce, cari fratelli, eh? Ma Gesù andava avanti, era inarrestabile. Perché? Perché era pieno del fuoco di Dio. E la stessa cosa vale per noi. Più siamo pieni del fuoco di Dio, più siamo inarrestabili. Il demonio può fare tutto quello che vuole, ci può crocifiggere quello, quell'altro, ma se siamo pieni del fuoco di Dio, siamo inarrestabili, inarrestabili. Bene, la Santa Messa ci vuole rendere così, inarrestabili, pieni del fuoco di Dio, perché possiamo camminare sulla via che conduce al cielo, attraverso la croce. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Grazie a tutti i secoli e i secoli e i secoli e i secoli.